Ci definiscono lo specialista globale nella gestione dell'energia in quanto proponiamo sul mercato soluzioni che aiutino i nostri clienti a dare il meglio della loro energia. In particolare riteniamo che un approccio di energia che noi definiamo efficienza energetica attiva possa essere di aiuto per una gestione intelligente delle apparecchiature installate, quindi di motore e di carichi utilizzatori. Si tratta quindi di soluzioni e sistemi che consentono di entrare nel ciclo dell'efficienza energetica attiva attraverso sistemi di monitoraggio e misura che consentono di avere il dato, controllarlo, fino ad arrivare ad attività di business intelligence legate alla tematica di efficienza energetica, all'acquisto ottimizzato sul mercato dell'energia. Sistemi di automazione e controllo che vanno a soddisfare la necessità di incrociare la domanda e l'offerta del bisogno di energia sull'impianto per poi tornare a chiudere il cerchio con i sistemi di automazione per controllare se le iniziative intraprese hanno dato il beneficio che ci si aspettava. Quindi un approccio intelligente, un approccio attivo atto al controllo e monitoraggio delle azioni fatte per individuarle e verificarle l'efficace.